Non al pese aggressore, ma la questione bellica in Ucraina non è certo terminata e noi non dimentichiamo. Dopo due anni di aggressione, della invasione di alta scala in Ucraina, il popolo ucraino ancora sta continuando a combattere, a resistere e sperare alla pace. Grazie al sostegno anche di altre nozioni, altri popoli del mondo, oggi siamo qua per far ricordare che la guerra si sta continuando. La guerra non si sazia perché vuole ancora sempre di più e di più sangue e noi vogliamo non permettere di continuare, vogliamo che si finisce questa guerra. Vogliamo sostegno per dare armi e fermare questo terrorista Putin. Quante persone dall'Ucraina stanno scendendo in Calabria ultimamente? Veramente dall'inizio dell'invasione sono stati tanti rifugiati, 6 milioni di persone sono andate all'estero. Di qui 8.067 persone sono fermate in Calabria. Precisamente a Crotone ci sono 580 persone rifugiati dalla guerra, di qui 200 minorenni. E mi pare di capire che ci sono molti aiuti invece che da Crotone partono proprio per l'Ucraina, con dei camion pieni di solidarietà. Grazie al sostegno della gente di Crotone, specialmente al popolo ucraino, che in continuazione dà il sostegno per aiuti in Ucraina nella vita quotidiana, perché la guerra si continua. E proprio oggi, ricordando due anni dell'invasione di alta scala, vogliamo pure dare attestate di ringraziamento proprio a questa gente che in continuazione stanno aiutando. Qual è la condizione in cui gli ucraini vivono in Calabria, a Crotone? Il problema, nonostante tutto, per le famiglie con i bambini, per le case, perché per prendere la casa in affitto ci vuole busta paga. Per avere busta paga dovrebbe essere la persona adulta anche assunto. Avendo i bambini piccoli, minorenni, non puoi fare il tempo pieno, perché i datori di lavoro vogliono operaio di orario pieno, tempo pieno al lavoro. E basta che in breve uno dei bambini si ammalla e uno dei genitori non permette di essere presente al lavoro. E' questo problema che maggior parte, voglio dire che il 70% sono ritornati a casa proprio per questo problema.